Gela si adegua ai tanti comuni d'Italia che stanno puntando sui percettori del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili come la manutenzione del verde pubblico. In città si inizia per ora attraverso i primi due progetti autorizzati dall'Aggiunta. Qualche settimana fa l'amministrazione ha dato il via libera ai progetti di utilità collettiva, si prevedono interventi di manutenzione del verde all'interno del cimitero Farello e dell'orto Fontanelle. Inoltre sono previste squadre di operatori da destinare ai lavori sul verde al giardino dell'Auriga a Macchitella, all'interno della Villa Garibaldi e nelle aree verdi e nelle villette pubbliche di Eva Morselli a Ha deliberato l'approvazione di due progetti che vedranno impegnati i percettori del reddito di cittadinanza e ci considera di coprire anche quei wunus che purtroppo ci sono nel nostro ente e quindi va a coprire quella carenza di personale di cui purtroppo l'ente soffre. Quindi partiranno questi due progetti, qui ne seguiranno altri. Questi sono i primi due progetti varati all'amministrazione e coperti con fondi per circa 195 mila euro attraverso il piano ottativo locale che riguarda il distretto socioassistenziale. L'obiettivo è quello di dare la possibilità ai percettori del reddito di mettersi a disposizione della comunità. Potranno impegnarsi in queste attività di pubblica utilità ma diventa anche un'occasione per loro per restituire quanto hanno ottenuto in questi anni. Quindi abbiamo questa duplice funzione. Sicuramente l'obiettivo principale è quello di consentire il loro inserimento lavorativo sociale nel nostro territorio. Intanto si prova a far ripartire i percettori del reddito di cittadinanza dallo sviluppo delle competenze da sviluppare mediante tirocini ad hoc attraverso il distretto sociosanitario 9 che con capofila Gela riunisce i comuni di Butera, Mazzarino e Niscemi. La dotazione finanziaria per i tirocini è di oltre 160 mila euro a valere sulla quota del fondo povertà 2018 per un totale di 85 tirocini. Ogni comune stipulerà apposite convenzioni con le aziende che dovranno ospitare i tirocinanti. Per loro è previsto un rimborso di mille euro a tirocinio. I tirocini saranno aperti ai percettori del reddito di cittadinanza presi in carico dai servizi sociali e firmatari del patto di inclusione. Residenti nelle aree di riferimento che potranno beneficiare di tre mesi di formazione on the job in aziende per orientarsi, riqualificare le proprie competenze e rientrare a pieno titolo nel mercato del lavoro. Il comune soffre di carenza di personale ma noi siamo sempre attivi, operativi e siamo stati nelle condizioni di pubblicare diversi avvisi, tra i quali appunto destra attenzione è quello dedicato agli enti promotori che potranno manifestare la volontà di offrire un servizio ai percettori del reddito di cittadinanza, offrire formazione. I percettori quindi potranno essere impegnati per poter meglio qualificarsi e così poter meglio spendersi per il territorio.